Emilio, ti sto offrendo una via per sfuggire all'inferno, non la guerra. Emilio, ti sto offrendo una via per sfuggire all'inferno, non la guerra. Ehi, che cosa hai detto, Vincenzo? Mi stai prendendo per il culo? Ma questi pesticidi li danno la mattina o la sera? Ma non sono venuti la settimana scorsa a darli? Che cazzo! Ma... Merda! Ma questo non è pesticida! Ehi, che cosa hai detto, vincenzo? Oh Dio, sta bruciando tutto! Sta bruciando tutto! Non vedetevi che stai chiesto a te fermi! Non vedetevi che ha i pompieri! Chiava i pompieri! Forza! Oh, maletto Vincenzo! Me la pagherai! Me la pagherai tu! E tutti i cassano! Forza! No! 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 Grazie a tutti.